il primo è Luca Bonifacio, accanto a me è Angelo, Papa Andrea, con lui commenteremo questo gioco al massacro tra tre formazioni e Angelo. Luca già ne ha preso uno, io non lo conosco bene su questo fatto, quindi già due su due per Luca Bonifacio, in pratica tutte e tre le formazioni, Bonifacio D'Alterio, Antonini Roberto Turoani, Capellacci Patrignani, questi tre al gioco dei pallini debbono guadagnarsi la semifinale, sono due per Bonifacio. Allora, le tue previsioni Angelo? Qui sono tutti bravi, dipende un po' chi ha più fraddezza, lui è più un puntista, Roberto è più un puntista, è facile che magari sbagli qualche pallino in più. Allora, zero, lì marchiamo anche noi per darvi poi in continuazione la possibilità di capirci, c'ha anche un ottimo giro mi sembra. Sì, esatto, deve calcolare il giro, quindi anche lui non è facile su questi terreni. E l'altra coppia che si è appena qualificata, 8 a 6, sono i Savoretti e Di Nicola, secondo me sono i più papabili alla vittoria finale, tu dici? Alla vittoria dei pallini, anche alla vittoria finale. Allora, vediamo ancora Turoani, Giro questa volta non prende uno su tre per lui, due su tre invece per Bonifacci. Ora vediamo Federico Patregnani, lui è un ottimo pallinaro secondo me. Sì, anche lui è uno che tira bene i pallini, ha un tiro dolce. A volte tira bene anche i cappellacci. Io punto sul lungo, anche in vecchia i pallini, diciamo la due. Dipende, lui può fare tre su tre. Bravo Patregnani, prende. Comunque questa è un'altra possibilità per chi ci segue di godersi uno spettacolo diverso. Certo, certo, è anche divertente, appassionante. Vuol tirare con la stessa boccia? No, devi tirare la boccia dal fondo. Ok. E qualcuno è permaloso, allora sai... Le ombre, colpisce ancora. Secondo me prende anche quell'altro. Sì, è un tiro dolce. Il Rico tira bene, sì. E poi lui nasce bocciatore, tiratore. Quindi oggi, un po' come ha fatto Mazzoni prima, tiratori che si improvvisano... Ah, ci ha smentito, ci ha smentito. Lui guarda il terreno, magari ha un po' deviato. C'è stato nel passo, non è arrivato giusto, tra passo e rilascio della boccia. Adesso vediamo Dalterio se farà tre su tre. Perché già abbiamo... Dal tre quarti in poi tira bene. Il suo compagno ha già due su tre. Vediamo un po'. Tiro sulla media distanza. Abbiamo sentito che ha colpito... E poi Pasquale oltre il braccio ha anche una freddezza che l'accompagna. Uno deciso, nei momenti importanti, è difficile che sbaglia. Però... Colpisce ancora, poi pieno, eh. Pieno, vedi, quello vuol dire... Un po' come lo faceva una volta Angelo Papandrea. Sì, lo faccio ancora adesso, ma ne prendo qualcuno in più o in meno, cioè... L'importante è tirarli. Certo, certo. La mia è una battuta. Vabbè, conosciamo la tua forza. Ancora un pallino pieno. Non mi ha smentito, questa volta ci ha seccato, eh. Ebbè, ora si portano su... Cinque pallini su sei, tre viso. Roberto, dire anche lui bene, se piega la schiena. Roberto Antonini. Prende. Però... Noi abbiamo due errori quantificati per la sua formazione prima. Quindi le deve colpire tutti i tre e rimarrebbe poi a un pallino. Colpisce ancora Antonini. Anche lui lo vedi moggio moggio, ma è il suo modo di giocare, ma... Lui è uno che rende, eh. Anche lui, mio compagno di vittorie al Mondiale. Ebbè... Ho giocato anche due anni con lui facendo il puntista io, pensa. È un pezzo di storia, come lo sei se, come tanti altri che sono presenti oggi, pezzi di storia delle bocce italiane. Ho qualche anno in meno, ma è naturale. Vedi? Tre su tre. Allora, ne abbiamo cinque su sei per la coppia di Treviso. E ne abbiamo quattro su sei. Adesso potrebbe Cappellacci, prendendole tutti i tre, potrebbe... Potrebbe pareggiare alle sorti con Treviso e poi rimandare... E lo può fare anche lui, eh. Lo può fare. Vediamo. Aia. Passato vicino, ma ha fatto un errore. Questa volta è buono. Va bene anche così. E' importante questo, deve colpire questo, altrimenti è un po' dura. Beh, colpito. Allora abbiamo cinque su sei per Treviso e poi abbiamo quattro su sei sia per Ancona 2000 che per l'Alto Verbano. Adesso si deciderà tutto nel lungo, nella riga dei quattro metri. Ed è ancora Pasquale e D'Alterio per Treviso sul massimo. Eccolo là. Bravo Pasquale, bravo. Se le dovesse prendere tutti e tre, gli altri non tirano per niente e finisce qui. Ma vedo che sta tirando bene, può anche fare la tripletta. Oh, è passato vicino, se ne dispiace anche lui. Gesto di stizza. In effetti ha lasciato, se ti hai visto, non ha lasciato la boccia come prima, non l'ha... Non l'ha accompagnata, ma ha cercato di girarla. Si è girata un pochino, sì. Si si accorge subito che... Dal modo che lancia la boccia. Esatto. Bella. Eh, questo l'ha lasciata bene. Siamo sette su nove. È un'ottima media. Eh, sette su nove è una buona media, sì. E... Antonini. Antonini li devi prendere tutti e tre per pareggiare. Per pareggiare. Ne sbaglia uno. Il compito non facile. Vedi, lui non piega la schiena, salta un po'. Io credo che dovrebbero smettere di tirare loro, in quanto ormai... Un po' più raggiungo, infatti esiste Antonini, esiste. E a questo punto, la stessa storia vale per... Capellacci, li devi prendere tutti e tre per pareggiare. Al primo errore, lui lo prende. Ancora due possibilità per poter andare ad oltranza poi. Vediamo se il vincitore dei World Game riesce a colpire due pallini. Bravo. Ancora, bello pieno. Bravo. E sul braccio devi venire bello fermo, deciso. Butta fuori l'aria, grado espiro. C'è! Ecco, ecco. Bellissimo, applausi per Andrea Capellacci. È stato bravo, molto bravo. Non è facile rimontare quando devi colpire per forza. E per pareggiare anche, non per vincere, ma per pareggiare. Esatto. Allora, vediamo adesso... Probabilmente il pallino era posizionato dove c'è il... E il primo che sbaglia è fuori. Forse tocca a Pasquale, dal telio, partire. Sì, infatti va in pedano a lui. È chiaro. Ecco il direttore di gara. Facciamo il nome. Giovanni Scattini. Scattini di Bergamo. Sì, del comitato di Bergamo. Bravo. Vediamo un po'. Ai, ai, ai. Boccio Dromo ha mutolito mentre tirava. Secondo me Andrea non approfitterà di questo sbaglio. Se colpisce, passa. L'ho visto tranquillo, ha deciso anche lui. Bravissimo Andrea. Infatti, infatti. Bravissimo. Infatti, merita, dai. È stato bravo. Ecco che viene complimentato anche dal suo avversario. Noi ci fermiamo prima del semifinale, però prima vi voglio dire chi sono i semifinalisti. Naturalmente Di Nicola, Giuliano, Savoreti Mirco, Virtus L'Aquila, Cappellacci Andrea, Patrignani Federico Ancona 2000. Questi andranno ad incontrarsi. e l'altra semifinale sarà tra D'Alterio Giuseppe e Andreani Cristian dell'Alto Verbano contro Bagnoli Andrea e Signorini Roberto della Montecatini. Grazie a te, Angelo. Ciao a voi, ciao, 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 buon lavoro, ciao.